Il bilancio di fine anno della Compagnia dei Carabinieri di Vibo Valencia è stato anche il pretesto per fare prevenzione per quanto riguarda l'uso dei cosiddetti botti durante le imminenti feste natalizie. Un servizio alla cittadinanza che è partito sin dalle settimane scorse già nelle scuole per far conoscere soprattutto i più piccoli quali rischi corrono se non adottano tutte le precauzioni nell'armeggiare anche un semplice petardo. La nostra attività che non è solo è più concentrata nel mese di dicembre perché aumentando come ho detto prima la domanda aumenta pure l'offerta. Quindi cerchiamo di fare questo tipo di attività preventiva affinché gli alunni prima e tutti gli studenti, i bambini e i ragazzi capiscano che l'incaudo maneggio soprattutto di artifici biotecnici legali è cosa non buona perché il ministero, lo Stato omologa gli artifici e dà determinate istruzioni quindi illustriamo tutte quante le istruzioni per quanto riguarda il maneggio sicuro degli artifici biotecnici legali oltre al fatto che spieghiamo loro che quelli illegali non devono essere proprio toccati. Diamo consigli e mostriamo quali sono gli artifici illegali e le loro pericolosità. Come si fa a distinguere da un articolo ufficialmente riconosciuto e quindi permesso a uno taroccato? Diciamo a livello cinese, mettiamola così. Allora, sfatiamo questo mito nel senso che gli artifici biotecnici nella loro totalità sono tutti prodotti in Cina e poi importati in Italia da ditte che li importano, li omologano e li classificano. O meglio, l'organismo che classifica ed omologa gli artifici biotecnici è il ministero dell'interno. Quindi ogni artificio va al vaglio di una commissione ministeriale che registra ed omologa e pubblica in gazzetta ufficiale questo tipo di artificio biotecnico. Quindi se passa l'esame di questa commissione ed è progettato per essere artificio biotecnico viene omologato, etichettato e nell'etichetta viene indicata anche l'istruzione per l'utilizzo, viene indicato il peso lordo, il peso netto di prodotto attivo e tutte le altre indicazioni oltre al marchio CE per quanto riguarda la cosa. Quindi tutto quello che non è etichettato è illegale. La differenza tra legale e illegale è questo, è l'omologazione del ministero dell'interno. Tutto quello che non è omologato e non è passato sotto la commissione del ministero dell'interno è illegale.